Sossen, e sta avanzando verso Standort. Al momento attacca la periferia nord, tra Fronau e Pankow. E a est ormai il nemico è attestato sulla linea Lichtenberg-Kar-Sorst. Appena Steiner attaccherà, le cose torneranno a posto. Mein Führer. Steiner. Steiner manca di forze sufficienti per un attacco. Non ci sarà l'attacco di Steiner. Si trattengano soltanto Keitel, Ios, Krips e Burgdorf. Avevo dato un ordine. Avevo ordinato a Steiner di attaccare. Voi pensate di poter disobbedire a un mio preciso ordine. A questo punto siamo arrivati. Le forze armate mi hanno mentito. Tutti mi hanno mentito. Perfino le SS. I nostri alti comandi militari sono composti da una cozzaia di vili, pavili e infili migliacchi. Führer, sono soldati che versano il proprio sangue per... Sono soltanto dei codardi, dei traditori, degli incapaci. Führer, quello che sta dicendo è inaudì. I nostri generali sono la feccia del popolo tedesco. Sono uomini senza onore. Si fanno chiamare generali perché hanno trascorso anni all'Accademia Militare al solo scopo di imparare ad usare correttamente cucchiaio, coltello e forchetta. Per anni le forze armate hanno intranciato le mie iniziative. Non hanno fatto altro che crearmi ostacoli in tutti i modi possibili per impedire le mie mosse. Se soltanto a suo tempo avessi anch'io liquidato i generali e tutti gli ufficiali delle forze armate, come Stalin! Non ho mai frequentato Accademie Militari. Ma sono riuscito da solo, da solo! Io sono riuscito a conquistare l'intera Europa. Traditori. Fin dall'inizio i generali non hanno fatto altro che ingannarmi e tradirmi. Hanno commesso un mostruoso tradimento al danni del popolo tedesco. Ma tutti questi traditori dovranno pagarla. Pagheranno il tradimento con il loro stesso sangue. Pagheranno annegando nel loro stesso sangue. I miei ordini sono parole al vento. È impossibile continuare a guidare la nazione in queste condizioni. Ormai è finita. La guerra è perduta. Ma se voi, signori, credete che io sia disposto a lasciare Berlino, sappiate che vi sbagliate di grosso. Preferisco piantarmi una pallottola in testa. Fate quello che volete. Grazie. 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 Grazie.